Facciamo finta di essere dottori e dottoresse. Filastrocca del dottore. Da chi vado se mi batte forte il cuore? Dai dottori veniamo curati e a volte hanno nomi strampadati. Il pediatra cura i bambini, sia i più grandi che i più piccini. Quando sto male, sono tranquillo perché il mio dottore ha la cura giusta per me. Il mal di denti tira triste, corri presto dal dentista. E' una barca, un aereo o un motorino? Non sento bene, mi servo un motorino. Che strano, mi si annebbia la vista. Avrò bisogno di un oculista. Troppi dolci ho mangiato e la nutrizionista mi ha gridato. A volte ho paura del dottore. Usa prezzi che fanno rumore. Usa spesso strane parole. E a me batte forte il cuore. Ma poi sorride e capisco che quello che fa, lo fa per me. E se da grande farò il dottore, farò scomparire ogni dolore. Troverò la giusta cura per far sparire la paura. Avanti il prossimo, tocca a te! Il dottore è qui per me. Sì, la strocca dei dottori fanno sparire tutti i dolori. E proprio come per magia, anche la tristezza vola via.